salve a tutti amici e amiche grazie per i commenti al video di ieri sull'analisi dell'attacco missilistico russo a kiev che ha colpito l'ospedale pediatrico oggi proverò anche ad aggiornarvi su quello che sta succedendo e sulla reazione ucraina proprio ai fatti di lunedì il vostro supporto è importante iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace seppur essendo un gesto gratuito e molto piccolo vale tantissimo per me mi incoraggia ad andare avanti e mi permette di crescere di far crescere il canale e chissà magari in futuro di auto sostenermi con questa iniziativa quindi questo è il mio traguardo per cui se volete aiutarmi qui sotto trovate tutti gli strumenti per farlo veniamo a noi non seguendo youtube italia sono completamente all'oscuro di quelle che sono state le pseudo reazioni ed analisi di certi canali di cui mi avete parlato nei commenti come ho detto nel video le immagini e tutte le fonti internazionali parlano di uno sciame di missili da crociera russi che ha colpito la capitale missili kh 101 che si vedono distintamente nelle immagini ora è piuttosto normale che questi missili arrivino da direzioni imprevedibili da nord da sud per poi approcciarsi dagli obiettivi da ovest questo perché il grosso delle difese e dello scudo missilistico ucraino è ovviamente concentrato a est per tenere il fronte comunque questo grosso missile con il suo piccolo reattore posto in coda che lo spinge e le ali ha una sagoma inconfondibile quindi non è stato un aim 120 del sistema nasems ma di questo ci parleremo fra poco ora se doveste chiedermi perché qualcuno su youtube italia pensa che questo non sia un kh 101 non lo so onestamente non lo so non è difficile fare un poco di ricerche quando si vuole fare una buona divulgazione no per divulgare forte come direbbe alberto angela non è necessaria neanche una laurea o studi approfonditi volendo uno può aprire qualche decina di pagine su internet e confrontarle e capisce anche da solo quali sono delle fonti attendibili e i siti web predatori se la stragrande maggioranza di testate e siti di riferimento dicono una cosa qualche dubbio dovrebbe venire no cioè come si fa a dare credito a un singolo sito predatorio in mezzo a una massa enorme di notiziari e siti che invece dicono il contrario che poi per carità tra tanti siti e tante fonti possono esserci delle piccole variazioni però un conto è parlare di un missile da crociera russo un altro è dire che gli ucraini si sono autocolpiti un ospedale pediatrico no c'è un'enorme differenza a me che insomma a meno che non si costruisce tutta la missione del proprio canale sul fare discorsi alternativi a quel punto c'è una faziosità della propria missione quindi basta anche un solo sito buono per sostenere che la terra è piatta e che non siamo mai andati sulla luna ok in questo un po il ragionamento voglio dire poi se si usa il pc per fare delle ricerche quando si apre una pagina sospetta si capisce subito che intenzioni a quella pagina non ci vuole tanto un pochino di dimestichezza con l'informatica e anche solo in base ai pop up che si aprono in quella pagina si capisce che ci troviamo davanti a una pagina predatoria che ha l'unico scopo di fare di divulgare fake news come per esempio è molto facile capire se una pagina youtube è finta quando per esempio a 5 milioni di iscritti e poi il video poche centinaia di visualizzazioni no c'è qualcosa che non torna ma non solo su youtube ci sono dozzine di canali che usano per esempio chat gpt per far leggere i testi si riconosce la voce artificiale che non fa errori non tossisce non ha una cadenza umana e non è una bella cosa cioè nella stragrande maggioranza non è così grave però può anche significare che dietro c'è qualcosa di non buono niente di buono e oggi più che mai la isab la cosiddetta cyber guerriglia avviene anche così attraverso gli organi di stampa e di diffusione mediatica per quella che viene chiamata contro informazione quindi bisogna essere super critici e diffidare diffidate sempre non sono d'accordo su chi parla di propaganda almeno per come la vedo io la propaganda è qualcosa che fa un governo o un regime quello russo per esempio che controlla tutta la televisione tutte le radio tutto l'internet lui fa una propaganda dove impedisce che vengano dette certe parole e vuole che solo una narrazione venga fatta in modo unidirezionale non credo che il poveretto su youtube quello che cerca di accaparrarsi visualizzazioni con i suoi limiti o lo sponsor fa un'opera di propaganda al massimo quello che ottiene è fare disinformazione perché è disinformato lui stesso quindi fa danno a se stesso e agli altri chi si vuole approfondire su un evento come ho detto anche in altri video non è facile poi se non si è sul posto e testimoni degli eventi direttamente e non si hanno fonti dirette di persone che ci vivono è difficile in alternativa ci sono immagini ci sono video che possono essere presi singolarmente e possiamo incrociarli per capire le criticità per capire per esempio se certi video sono artefatti finti e chi ha occhio professionale per riconoscere gli armamenti o anche le modalità con cui si fanno i video finti queste cose fa presto a riconoscerle e nel caso denunciarle perché è chiaro che se riesci a dimostrare senza ombra di dubbio che un video è finto e artefatto è una notizia quindi uno ci può no ci può ricavare un utile può può avere un ritorno da questa denuncia ma se della stessa colonna di fumo su kiev da cui si è sviluppata l'esplosione ci sono più prospettive da più telefoni diversi più fonti beh a quel punto è un po' stupido dire che l'attacco non si è verificato no non siete d'accordo così del missile che ha colpito l'ospedale si vedono le immagini dell'oggetto c'è la traiettoria il modello e la dinamica dell'esplosione quindi si possono dire due cose solo basandosi su quelle immagini che a non è una bomba e b non è certamente un aim 120 comunque per tutti quanti l'attacco di ieri a kiev c'è stato è una verità tanto solida quanto la circonferenza della terra e lo sbarco sulla luna si vedono chiaramente colonne di fumo su kiev per altri missili che hanno colpito e un missile la crociera colpire l'ospedale se accettiamo per un attimo questo per certo ci si apre un mondo cioè l'attacco missilistico di origine russa a quel punto ci mostra come le reazioni degli organi di stampa europei e russi hanno reagito e questo ci apre un mondo di studi antropologici e sociali ok molto curiosi per le loro caratteristiche che possono essere studiati a parte uno potrebbe dedicare un video solo a come ha reagito la stampa russa a questi eventi per esempio me ne leggo alcune di queste dichiarazioni sempre da fonte russa bombe sull'ospedale una trovata pubblicitaria di kiev ora vorrei sapere chi ha scritto questo perché arrivare a dire che le bombe adesso sono una trovata pubblicitaria ce ne vuole no mi viene in mente il famoso yogurt nelle pubblicità che gira nella nostra televisione ma in versione russa tipo yogurt russo fate l'amore con il bombone una cosa del genere altra fake news o dichiarazione da parte della stampa russa è stata questa sono stati i nasems norvegesi ok va bene diciamo per un attimo che i nasems norvegesi si trovavano sul territorio ucraino perché ovviamente essendo un sistema a cortissimo raggio non avrebbe mai potuto partire dalla norvegia quindi va bene il nasems è un sistema che lancia gli am 120 gli am 120 sono dei missili aria aria che sono stati modificati per poter partire da questi piccoli lanciatori ok è un piccolo missile parliamo di poco più di tre metri e mezzo per 150 kg di peso questo missile è il classico tubo con le alette le lette centrali e le lette posteriori il classico missile aria aria statunitense quindi non ha reattori non ha le ali grandi come un missile da lucera che si vede nelle immagini è un piccolo missile quindi una piccola testata esplosiva pensata per distruggere missili e aerei appunto non palazzi cioè non ha la capacità di distruggere un palazzo come ho detto magari fosse stato un 120 a colpire per sbaglio l'ospedale perché in quel caso avrebbe distrutto qualche finestra e nient'altro ora rispetto ai 150 kg di peso del 120 il kh 101 missile da crociera russo pesa due tonnellate e mezzo e può portare una testata convenzionale il 101 mentre il 102 può equipaggiarsi con una testata nucleare questo missile grosso missile può essere lanciato dal tu 22 che ne può lanciare 4 quasi contemporaneamente dall'altro bombardiere il tu 95 che ne può lanciare 8 sempre da sotto le ali quasi contemporaneamente e il tu 160 che ne può lanciare fino a 12 dai rulli quindi quando lanci uno sciame di questi missili che volano bassi e si alzano solo nel tratto finale per colpire con quell'angolo tipico in cui si vede colpire l'ospedale essendo così difficili da rilevare e abbattere sono un grosso problema per tutti i sistemi di difesa moderni quindi la cosa più semplice da fare è abbattere gli aerei che li trasportano prima che li lancino ma come dire oggi gli ucraini non hanno questa capacità non hanno una superiorità aerea sul confine e non hanno i numeri di aeroplani sufficienti per far passare la voglia al cremlino di continuare a usare i bombardieri della guerra fredda sul territorio ucraino in ogni caso discutere se sia stato o meno un missile russo a colpire l'ospedale è veramente infantile se non sai riconoscere un missile guardando quella foto allora non sei un esperto militare se non ti sai districare fra dozzine di siti e fonti che ne parlano allora non sei neanche capace di fare una ricerca su google il risultato è molto semplice e parlo a te youtuber che vuoi fare divulgazione di analisi militare se vuoi continuare a fare il tuo mestiere affidati ad esperti della materia contattali chiedi e preparati però ad accettare i loro consigli oppure smetti di fare questo mestiere e di trattare questi argomenti chissà magari avrai un futuro con i video dei gattini teneri e coccolosi o dove ci si trucca o ci sia buffa di cibo spazzatura no questo genere di contenuti che non richiedono grandi ricerche e analisi militare perché l'unico risultato che ottengono questi canali o i filorussi e o i disinformatori come ho detto anche nel video precedente è che si inizia a discutere su chi ha ragione e chi no sulle versioni promosse dai deficienti e ci si perde di vista il fatto principale che in sé è gravissimo e non va messo assolutamente in secondo piano che un ospedale pediatrico è stato colpito da un missile da crociera kh 101 russo questo è il fatto poi possiamo discutere di tutto quello che volete intorno ma non dobbiamo distogliere l'attenzione dal fatto principale che è un crimine di guerra colpire ospedali è proibito dalle convenzioni internazionali tanto quanto usare il gas nervino le armi atomiche l'iprite eccetera eccetera quindi di sicuro una delle cose più penose di questi due anni schifosi della storia umana è che si è capito che questi uomini in grado di decidere attacchi terroristici o che invadono una nazione pacifica ignorano un principio molto elementare di causa ed effetto per intenderci adesso parlo per esempio faccio un esempio per intenderci io non condivido la linea di azione israeliana a seguito dell'attacco di hamas al posto loro al posto dei vertici militari israeliana israeliani dopo il 7 ottobre io personalmente se fossi stato un generale o un capo di governo avrei preferito servire la mia vendetta su un piatto freddo con una caccia sistematica a tutti i vertici di hamas partendo dalla testa fino ai mostri che hanno fatto quelle cose di cui non posso parlare qui su youtube il 7 ottobre ma come stavo dicendo questi leader religiosi o militari o di governo che pianificano e autorizzano un attacco terroristico o militare hanno dimostrato di ignorare completamente il principio di causa ed effetto che era ovvio che israele avrebbe raso al suolo la palestina come reazione all'attacco subito che gli stessi civili palestinesi ne avrebbero fatto le spese quindi perché era ovvio che sarebbe finita così ed era altrettanto ovvio che la russia invadendo vigliaccamente l'ucraina avrebbe incontrato le più dure reazioni di tutta la comunità internazionale nessuna nazione ha il diritto di violare i confini territoriali di un'altra nazione e la russia tra l'altro è una delle nazioni costituenti della nato che avrebbe dovuto sapere per primo per prima questo saperlo molto bene quindi il super stratega al cremlino cosa si aspettava di ricevere in cambio della sua invasione grandi campi di grano e industrie gratis e una pacca sulle spalle bravo il mio conquistatore i complimenti da parte di tutti è un premio per averci riportato alle manie imperialistiche del novecento la prima cosa da aspettarsi erano appunto sanzioni pesantissime l'interruzione di forniture decennali di materie prime che sostengono la stessa economia russa e che l'ucraina non sarebbe mai stata lasciata sola in un conflitto del genere la guerra di corea del vietnam il primo conflitto in afghanistan ci sono tanti casi del genere nella storia umana che sarebbero stati esempi sufficienti per qualsiasi stratega anche ignorante e di basso livello per capire che le cose non vanno mai come programmate quando si invade vigliaccamente un'altra nazione no i russi avrebbero dovuto saperlo per primi questo discorso così la russia si è infilata in una catastrofe come hamas che con la sua brillante guerra religiosa ha avuto come premio una palestina ridotta in macerie e decine di migliaia di civili ingiustamente uccisi che ripeto io non sono d'accordo con i metodi israeliani avrei agito diversamente ma sto semplicemente dicendo che una reazione spietata e violenta militare da parte di israele sarebbe stata ampiamente prevedibile prima del 7 ottobre e così era ampiamente prevedibile che un'invasione dell'ucraina avrebbe significato una guerra eterna per generazioni con perdite insostenibili da entrambe le parti l'ucraina è allo stremo delle sue forze oggi ma è supportata da tutta da tutta l'europa e dagli stati uniti perché è la nazione invasa che si sta difendendo bisogna ricordarlo questo bisogna ricordarlo tutti i giorni e potrà continuare a resistere anche a lungo perché utilizza dei metodi di resistenza che limitano al minimo la perdita di uomini ad oggi i mezzi distrutti russi e tutti gli uomini che muoiono sul campo vengono colpiti da droni dobbiamo ricordarlo non da fucili non da proiettili non da scontri a fuoco diretti quindi non c'è neanche un rapporto minoritario in cui si direbbe che per 10 soldati russi ne muore uno ucraino per gli ucraini è zero il rapporto perché utilizzano droni artiglieria in cui fanno scempio di queste avanzate di mezzi e soldati mandati avanti e quindi insomma la lenta invasione da parte russa nell'area dell'onesc era stata ampiamente prevista da parte ucraina si sapeva che il 2024 sarebbe stato così di resistenza di tenere il più possibile e di far sfiancare le forze all'esercito russo e poi non c'è stata questa grande offensiva estiva di cui si parlava a primavera io ho pubblicato un vecchio video a primavera proprio parlando di questo in cui mi chiedevo cosa avrebbero fatto gli ucraini per sostenere la grande offensiva russa estiva ma di questa offensiva non ne vediamo nessuna traccia anzi in alcuni settori i russi stanno perdendo posizioni soprattutto a nord ma in ogni caso nell'area dell'onesc i russi continuano ad avanzare un poco alla volta piccole pezze di territorio campi ogni giorno ma il loro slancio sta rallentando mano mano che perdono unità e ne perdono a centinaia ogni giorno quindi l'esercito ucraino non deve fare altro che aspettare e si arriverà presto a un punto in cui i russi non riusciranno più a spingere e si concentreranno per difendere quello che sono riusciti a conquistare e nel frattempo le fabbriche ucraine le centrali elettriche le infrastrutture le strade i ponti e le ferrovie distrutte potranno essere riparate perché dall'europa arrivano componenti per ripararle la russia invece è isolata e non potrà indebitarsi con la cina per sempre ripeto ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria e ora ragioniamo per assurdo facciamo un discorso insieme vediamo come hanno reagito gli ucraini oggi all'attacco di lunedì proviamo a immaginarci al loro posto se la russia avesse invaso l'italia quale sarebbe stata la reazione dei nostri filorussi arrendersi consegnare il paese perché tanto la russia è una superpotenza e potrebbero conquistarci in due giorni se roma bologna o milano subissero attacchi missilistici ogni giorno per due anni e chiedessimo aiuto a tutto il mondo per continuare a difenderci sarebbe sbagliato se l'unidì scorso i russi avessero colpito un ospedale a roma come avreste reagito voi questa mattina la reazione degli ucraini non si è fatta attendere nella notte di ieri sono partiti droni a lungo raggio che hanno raggiunto queste città sono riusciti a distruggere un complesso di stoccaggio di armi delle centrali elettriche minori e centri di comando in profondità in pieno territorio russo la distruzione di infrastrutture elettriche per la russia è un danno gravissimo perché i componenti per ripararli vengono dalla germania hanno smesso da decenni di riprodurli dai tempi dell'unione sovietica e quindi ancora la situazione del conflitto è questa e resterà invariata a lungo come ho già spiegato nel video sulle perdite insostenibili la russia si troverà molto presto costretta a rallentare se non fermare del tutto la propria avanzata e limitarsi a difendere le posizioni ottenute fino adesso a quel punto tutto potrebbe ridursi ad un lungo conflitto di minore attrito è una lunga e penosa guerra di trincea molto di più di quello che abbiamo visto fino ad adesso per questo motivo i proclami di putin avevano praticamente lo scopo di ottenere posizioni e territori che già hanno conquistato o che vuole conquistare e poi ovviamente la smilitarizzazione dell'ucraina no perché così ragazzi quando avremo sostituito e ricostruito l'esercito che abbiamo appena perso potremo invaderla di nuovo no perché putin alla fine sa benissimo che non può tirarla ancora per le lunghe in questo modo la russia è in un baratro economico demografico civile e tecnologico mentre l'europa diventa sempre più moderna e più unita e come dice l'antico proverbio se prendi un bastoncino lo puoi spezzare con due dita ma se ne prendi tanti non riesci a farlo neanche con due mani in ogni caso un vecchio testo credo che si chiami armi acciaio e malattie diceva la guerra si fa perché conviene altrimenti no il tornaconto di questa invasione del territorio ucraino sarebbero stati i suoi campi di grano le città le infrastrutture ma ad oggi i russi si trovano fra le mani macerie e distese di campi minati senza contare l'odio di generazioni di ucraini con cui dovranno fare i conti per decenni a venire quindi il popolo ucraino non deve fare altro che resistere con il sostegno di tutta europa e stati uniti e tutti i paesi civili e democratici tra le altre cose il premier indiano ieri ha visitato il cremlino in un incontro formale proprio nelle ore in cui si si sentivano le voci dell'attacco missilistico contro l'ospedale l'ospedale pediatrico durante la conferenza il leader indiano è venuto a conoscenza dell'attacco all'ospedale che ha coinvolto i bambini ucraini e ha provato a intavolare il discorso con putin ma la televisione russa ha immediatamente tagliato la domanda e in un attimo attimo dopo si vede putin dire grazie e congedare il premier indiano la sua espressione se prendiamo fotogramma e per fotogramma ci dice molto di più della singola parola grazie che pronuncia nei cieli d'europa in questi giorni c'è parecchie attività si vede la presenza massiccia di aerei awaks con i loro radar di scoperta a nord fra norvegia ed islanda pattugliare intensamente il centro nord dell'europa qualcosa si sta muovendo i nostri euro fighter italiani stanno pattugliando il nord est europeo inquadrati nella task force air gladiator per missioni di polizia aerea e tutela da confini europei su flight radar oggi che scrivevo questo articolo alle 13 sono apparsi misteriosamente degli f16 rumeni a ovest del mar nero proprio qui dove metto il simbolo più i consueti p8 poseidon per la guerra elettronica che da due anni si vedono pattugliare l'aria e così fornire dati preziosi alle forze armate ucraine oggi questi aerei insolitamente erano molto vicini alla crimea a meno di 300 chilometri poi c'erano ovviamente aero cisterne e tantissimi aerei da trasporto statunitensi fare la spola fra gli stati uniti l'inghilterra l'italia e l'ucraina quello che vi sto mostrando è per quello che possiamo vedere solo una piccola parte del traffico militare presente oggi in europa oggi pomeriggio così a naso qualcosa sta accadendo ma ci vorranno giorni per capire con precisione cosa quindi restate sintonizzati e con questo per oggi è tutto fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima